Visso è un comune marchigiano della provincia di Macerata, i cui abitanti sono detti Vissani e il cui patrono è San Giovanni Battista. A Visso le linee severe delle architetture sposate ai colori tenui della pietra creano la grazia di questo luogo di mezza montagna che una scuola di artigiani, scalpellini, decoratori e cesellatori bravi a trattare la pietra. Per 400 anni ha disseminato di mensole, portali, finestre, lunette, cornici modanate, capitelli e scritte sapienziali. In un travaso continuo dal gotico a rinascimentale, con gli affreschi che affiorano dagli intonaci slabbrati dell'antica collegiata e la paura che i terremoti sbriciolino l'arte in calcinacci, percorriamo Visso come pellegrini increduli di tanta bellezza sgualcita, tra vecchie case, sagome medievali, mura brunite dal tempo, porte blasonate di stemmi, portali inquadrati in purissime modanature, vicoli serrati e canali fluviali. Vicus, cioè luogo o villaggio, accompagnato dall'aggettivo elacensis, ossia rispettabile, fu, secondo tradizione, il nome del primo insediamento. Il toponimo vicanum indicava quindi la terra comunale, o vicana appunto, del pascolo e dell'egnatico attorno a un vicus. Secondo alcune fonti, il luogo sarebbe stato abitato già intorno al 1500 a.C., da popolazioni pelasgiche attestate sui monti sibillini. Sono in ogni caso probabili origini preromane. Nel 295 a.C., situato presso gli antichi confini degli Umbri e dei Sabini, il vicus fu conquistato dai romani. Tra il 494 e il 526 Teodorico vi pose un presidio gotico per consolidare i suoi domini sui pagi, ossia i villaggi, della Valnerina. Nel 579 il borgo fu assoggettato al ducato Longobardo di Spoleto, che governò i paesi di montagna per mezzo di feudatari minori, mandati sul posto dai Castaldi, per mantenere l'ordine e amministrare la giustizia. Con succedersi dei secoli, i Vissani si organizzarono il libero comune, fiero e bellicoso, sempre in lotta con i comuni confinanti, sino alla fine del 1500. Nel 1455 la Chiesa, sempre ben disposta nei confronti di Visso, le concesse diversi privilegi, come la giurisdizione civile e criminale, e nel 1472 l'esenzione perpetua da tasse e gabbelle sui viveri importati. Tra il 1400 e il 1500 fu epoca di pestilenze, inondazioni e saccheggi da parte delle compagnie di ventura, ricordata come la ruina di Visso. La ripresa economica che ne eseguì, dovuta alla posizione strategica di Visso nei traffici commerciali tra Roma, Spoleto e le Marche, consentì la costruzione degli edifici rinascimentali che ancora oggi vediamo. Ma furono poi l'artigianato e la pastorizia a portare prosperità al borgo. Nel 1583 Papa Gregorio XIII elevò Visso a sede permanente del governatorato, alle dipendenze del legato pontificio. Nel 1828 Visso venne insegnita dalla Chiesa del nome e delle prerogative di città. Infine nel 1860 la cittadina venne staccata dall'Umbria e assegnata alle Marche.